Questa mattina i tecnici di Acqua Enna hanno iniziato i video sondaggi per rilevare lo stato della rete fognaria sotto la via Pisciarotta. Nei mesi scorsi si era formato un avvallamento poco prima di una curva, creando disagi agli automobilisti. Era stata piazzata una transenna, ma la circolazione in quel punto risultava pericolosa. Come ci aveva già riferito l'assessore ai lavori pubblici Carmela Moruso, con i contemporanei ai lavori della via Frelli-Test e di via San Benedetto, non si è potuto procedere anche alla chiusura di via Pisciarotta. L'importante arteria collega il centro cittadino ed è molto trafficata nei ore di punta, anche per la vicinanza con la scuola. La fine dei lavori in via Frelli-Testa ha permesso di iniziare i sondaggi per capire dove si deve intervenire e se la strada andrà chiusa in entrambi i sensi di marcia o se si dovrà alternare il transito. Grazie per la visione!